Buongiorno e benvenuti al dibattito di Omnibus. Come si vede qui dal titolo del giornale, oggi avremo la verità di Fontana, la verità del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, perché parlerà in aula del Consiglio regionale, racconterà la sua versione dei fatti, che sono dal punto di vista delle notizie che abbiamo raccolto fino ad adesso abbastanza noti, ovvero che il Governatore è indagato per frode in fornitura pubblica sulle commesse di camici forniti e poi donati dalla Dama e SPA, appunto da questa fornitura a questa donazione, che si concentrano le indagini da parte della Magistratura, società riconducibile al cognato di Attilio Fontana, all'area SPA, la società della Regione che si occupa appunto degli acquisti. Il Movimento 5 Stelle in Regione vuole presentare una mozione di sfiducia, il centrodestra però appare abbastanza compatto. Ma oggi inizia anche una settimana molto impegnativa sul fronte delle votazioni per il Governo Conte alla ricerca di una formula, diciamo così, per cercare di gestire al meglio quelli che sono i fondi del recovery plan e il dibattito sull'utilizzo del MES è sempre centrale. Allora io do il buongiorno intanto a Stefano Passina, che è qui in studio, Stefano Passina di Liberi Uguali. Vedo collegato il direttore di domani, Stefano Feltri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E tra poco ci collegheremo anche con Pietro Senaldi, direttore di Libero e Guido Crosetto, che tra poco lo vedo in collegamento ma ancora non è buono l'audio. Allora intanto chiedo a Stefano Passina che idea si è fatta su tutta quanta questa vicenda, che era un po' nell'aria, diciamo così. C'è stata un'inchiesta da parte di Report nel maggio che ha fatto luce su questa vicenda. Per quanto riguarda il governatore Fontana e anche l'avvocato, oggi c'è una lunga intervista sul giornale che difende ovviamente il suo assistito, dicendo che è tutto quanto lecito. Si parla di questi fondi, di questo trust delle BAMAS, di questo conto svizzero, di questi soldi praticamente, che poi una formula di imborso spese che è stata data nei confronti di Andrea Dini, che è il cognato di Fontana. Che idea si è fatta intanto? Ma innanzitutto ritengo che dobbiamo evitare il rischio di strumentalizzare una vicenda che ha a che fare con decine di migliaia di morti. Quindi la strumentalizzazione è sempre sbagliata, in questo caso sarebbe davvero immorale. Dopodiché ritengo che da quanto emerge da giornali viene fuori un quadro piuttosto preoccupante. Allora, l'avviso di garanzia, come è noto, non è una sentenza di condanna e quindi dobbiamo lasciare alla magistratura il tempo per arrivare a conclusioni che poi conosceremo. Dopodiché, può darsi abbia ragione l'avvocato del Presidente Fontana che sia tutto legittimo, non tutto quello che è formalmente legittimo e anche politicamente opportuno. Su questo credo che vada fatta una riflessione perché quando ti trovi a gestire delle procedure in deroga e scegli in modo discrezionale, quindi senza gara, tra le aziende fornitrici, una nella quale sei implicato direttamente con i tuoi familiari, moglie e cognato, parti con un contratto di fornitura e poi quando viene fuori la storia cambi in corso d'opera e trasformi quella fornitura in una donazione. Tra l'altro, Fassina, emerge un altro particolare di questa inchiesta e lo pubblica oggi il Corriere della Sera che sarebbe ancora in vigore la vendita. Cioè la vendita del 16 gennaio, dal punto di vista formale, sarebbe ancora in atto, non c'è stata ancora una carta che giustifica la donazione e questo fa sì che qualche altro elemento di questa vicenda, sicuramente curiosa nella sua determinazione, però fa sì che nel dibattito il dibattito pubblico sia abbastanza chiaro. Io ho trovato anche abbastanza preoccupante la disinvoltura con la quale Fontana riferisce a proposito del suo conto in Svizzera di aver scudato 5,3 milioni di euro come se fosse, diciamo, naturale per chi ha una funzione istituzionale così importante scudare una somma così rilevante. Ma infine il punto politico che mi preme sottolineare è che tutta questa vicenda riguardo le dimissioni richieste per il Presidente Fontana andrebbe ricondotta sul terreno politico della gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia da parte sua, da parte dell'assessore Gallera. Credo che su quello il Consiglio regionale dovrebbe discutere senza cercare facilità per gli spiatori, ma mettendo in evidenza delle responsabilità e su questo esprimersi. Allora, do il buongiorno a Pietro Senaldi che vedo collegato al direttore di Libero. Non so se mi sente Senaldi. Buongiorno. Buongiorno direttore. Allora, intanto piccola parentesi, oggi apri con una lunga, bella intervista al Presidente dell'IRBM di Pomezia che è la società che si sta occupando con la multinazionale inglese AstraZeneca e l'Università di Oxford sul vaccino e dai anche una buona notizia che il vaccino dovrebbe essere disponibile già da gennaio. Sì, questo mi ha detto lui. Addirittura la sua è una valutazione prudenziale perché ecco, io ci tengo a dire questo. Noi non abbiamo forzato assolutamente nulla e non è un titolo sensazionalistico. Anzi, la mia intervista è qualche centimetro indietro rispetto a quello che mi ha detto giustamente il Presidente dell'IRBM proprio per non fare del sensazionalismo. E' un po' quello che ci auguriamo tutti quanti. Tutto quello che mi ha detto è convinto. Esatto, esatto. Ti volevo chiedere, ti volevo chiedere. E niente, d'altronde lui mi spiega che... Per quanto riguarda invece il caso Fontana, allora oggi, dicevo, c'è questa intervista all'avvocato di Fontana sul giornale. L'avvocato di Fontana che dice Jacopo Penza, il legale verso il cognato è stato un atto di generosità, il conto da 5 milioni, dietro c'è solamente una famiglia di buona borghesia e sulla ricostruzione del bonifico che poi è stato bloccato, ricordiamo perché dal conto svizzero Fontana è un personaggio pubblico, un personaggio politico, quindi ovviamente sono scattati tutti quanti i meccanismi dell'antireciclaggio. Lui dice a un certo punto Fontana che è una persona di coscienza, si è rammaricato del salasso che aveva imposto al cognato. È sacrosanto non procurare vantaggi ai parenti, ma non era neanche giusto fargli perdere mezzo milione. Così decide di dividere con lui il sacrificio e di mandargli 250 mila euro. Quindi sostanzialmente una donazione di coscienza, diciamo così. No, io penso... Questa ovviamente è la versione dell'avvocato, anche noi l'avevamo sentito il giorno prima. Io penso che... Adesso indagherà, io penso che non ci sia reato a quanto è emerso, perché, voglio dire, poi di una donazione si è trattato. Sembra di capire, e non ci sono prove a contrario, che Fontana sia venuto a conoscenza, diciamo così, di questa fornitura di camici quando questa era già stata decisa, e questo è plausibile, e probabilmente non condividendola, o comunque non volendo avere grane, più probabilmente, ed essendo anche un uomo di suo facoltoso, ha pensato di trasformarla a donazione e poi di farsene carico a metà. Io, per quello che conosco, Fontana, io non credo che lui avesse bisogno, non è un'intrallazione, quello che stanno dipingendo i giornali, è un ritratto, no, non una leggerezza, lui quando ha saputo è intervenuto ed è intervenuto per risolvere definitivamente la cosa, ovvero sia per trasformare questo appalto in donazione, quindi lui non è stato leggero, lui ha fatto un intervento molto pesante, perché ha cambiato la natura del contratto, e non è una cosa da poco. Ma come dicevamo Stefano, quello che vuol dire è che non è un'intrallazione. Quello che, come dicevamo prima, al momento appunto agli atti ufficiali della Regione, però non risulta ancora questa donazione. Qual è la tua versione Stefano? Ma io non ho una versione, io ho più domande che risposte, io credo che Fontana però dovrebbe dimettersi, perché ha mentito già due volte su quello che ha fatto. Sì, perché ricordiamo la tempistica Stefano, perché poi lui ha dato una versione dei fatti a Report, che poi si è vista insomma con il passare del tempo, non è esattamente quella più precisa. Sì, lui ha mentito dicendo che non si era mai occupato della vicenda dei camici, mentre sappiamo che se ne è occupato chiedendo di trasformare il contratto in donazione. Ha mentito perché il contratto non è stato trasformato in donazione, come apprendiamo oggi dal Corriere della Sera, ma resta in vigore. E ha mentito perché non ha mai accennato al fatto che lui, comunque nelle fasi dell'emergenza Covid, non più quelle più drammatiche, ma insomma in una fase comunque delicata, trovava il tempo per andare in banca a fare operazioni su un conto svizzero, che è stata un po' in bloccata per sospetti di antiriciclaggio, perché lui cercava di far avere questi soldi al cognato da un conto svizzero legato a un trust alle Bahamas. Tutte cose che se questa operazione fosse stata trasparente avrebbe spiegato al giornalista di Report quando è stato contattato, cioè a maggio, e non le avremmo scoperte a fine luglio. Ma questo per me è tutto secondario, questa è la parte che valuteranno i magistrati se il contratto è lecito o no, se c'è stato qualche abuso. Io vorrei che il governatore della Lombardia ci spiegasse da dove arrivano i 5,3 milioni di euro che stanno sul trust alle Bahamas, perché i trust alle Bahamas si fanno o per due ragioni, o perché una persona ha un'impresa alle Bahamas e ha un'impresa domiciliata in un paradiso fiscale e quindi accumula lì delle risorse personali, o si fanno per nascondere i soldi al fisco italiano. Ora i genitori di Fontana, da quello che mi risulta, quello che ho letto, erano un medico di famiglia di Varese e una dentista. Come si faccia una dentista ad accumulare 5,3 milioni di euro in conti alle Bahamas e soprattutto perché questo trust venga aperto dalla signora a 82 anni e non, diciamo, in un'altra fase della vita, a 82 anni. Apre un trust alle Bahamas che ha come unico beneficiario il figlio Attilio Fontana che in quella fase era presidente del Consiglio regionale della Lombardia, quindi non potevano neanche essere i soldi suoi che aveva accumulato come avvocato. Se poi uno fa la voluntary disclosure che è una versione leggera di uno scudo fiscale, significa che i soldi erano ignoti al fisco italiano. Quindi il fisco italiano non sapeva che la famiglia Fontana aveva 5,3 milioni di euro alle Bahamas. Fatemi dare il buongiorno un secondo a Guido Crosetto. Crosetto, intervengo in maniera diretta. Ci dovrebbe dimettere Fontana? Non conosco i fatti. Da quello che è emerso anche dal punto di vista politico lasciamo perdere la parte giudiziaria, insomma. Per quanto riguarda la regione da cosa ho capito io non hanno consegnato i camici nessuno li ha pagati. Non vedo la stessa polemica su 14 milioni di mascherine in un'altra regione che invece sono stati pagati. Sì, sì, ma anche Zingaretti ha le sue responsabilità, non c'è dubbio. No, no, da questo punto di vista poi ne abbiamo parlato anche durante il fine settimana. Insomma, quella è una cosa dove... Guardo solo i conti della regione. Cioè, dal conto corrente della regione non c'è un euro. Ma Crosetto, il fatto che abbia 5 milioni di euro in un paradiso fiscale per lei va bene? Cioè, se gli avesse avuti Conte o gli avesse avuti Di Maio... Perché quello dal punto di vista politico... Dal punto di vista politico, Crosetto, dal punto di vista politico, se Fontana avesse dichiarato prima o magari avesse messo, diciamo, alla luce del sole tutta quanta questa situazione, non dico raccontato ogni singolo dettaglio della propria dotazione, ma avesse fatto luce lui per primo, invece il fatto di fare questo stop and go, dire alcune cose, non dire queste altre cose, non lo espone dal punto di vista politico? Sicuramente sì, certo che se uno avesse detto dall'inizio la cosa è andata così, fatto subito l'adorazione, sarebbe stato meglio che non questa cosa tira e molla, primo discorso. Parlando delle mascherine, parlando invece, come diceva adesso del direttore del Conte alle Bahamas, quello è un altro discorso, quello lo si vedrà, il fisco che trasse la posizione è corretta o meno, guardi, stia tranquillo, io uso lo stesso garantismo per il finanziato di Conte, per Fortuna, per Di Maio, per chiunque altro, non sono io quello giustiziarista, sicuramente, per me uno è colpevole alla fine di un processo, quando ha potuto scusarsi o dimostrare la propria innocenza, qualcun altro può dimostrare l'accusa, per quanto riguarda le cose fiscali, se lo scudo non è regolare, o se la finanza cercherà di andare a capire come mai sono stati messi all'estero 5 miliardi e 3, 5 milioni e 3, chi li ha messi, vedremo cosa succede, ma terminiamoci, dividiamo le cose, le mascherine, le mascherine, nessuno li ha pagati, quindi andiamo a vedere cosa è successo, sul resto, per carità, io non ho scudato nulla in questi anni, non neanche fatti condoni immobiliari come esponenti di altri partiti, questo è verificabile, per cui guardo sempre con sospetto qualunque scudo fiscale, soprattutto le persone pubbliche, che quindi dovrebbero essere più trasparenti di qualunque altra persona, e anche perché tanto più scudi alle Bahamas, di cui conosco, riconosco essere un paradiso fiscale non indifferente, ma questa è un'altra vicenda, separata dalle mascherine, che è quella su cui dovrà rispondere politicamente, anche se dal punto di vista fiscale lo scudo lo mette al sicuro, ed è quella secondo me di tutte più grave, più che quella dei camici, che ripeto non c'è stata un'uscita di un euro pubblico, per cui... Vorrei tornare da Senaldi, direttore, oggi il messaggero fa l'elenco di tutte quante le inchieste che si sono aperte in Lombardia in questa fase, si è parlato molto insomma di una forma di sentimento antilombardo, Fontana, il caso di Fontana entra in questa scia o è una cosa a parte? Ma no, io non credo al sentimento antilombardo, il messaggero l'anno scorso faceva la stessa campagna contro la Raggi, fece un'inchiesta bellissima, che mi sembra peraltro che in edicola ebbe molta più fortuna di questa contro la Lombardia che sta procedendo da qualche mese. Non penso sia una questione di sentimento antilombardo, anzi, la Lombardia fa gola a tutti, penso che sia l'opposto, la Lombardia è una regione che la sinistra non governa, probabilmente non ha mai governato, io ho 50 anni e non mi ricordo un fortunatamente un governo della sinistra di Lombardia, essendo la regione più ricca e popolosa d'Italia, è anche quella che fa più gola a tutti e pertanto diciamo così è ovvio che viene attaccata politicamente. Ora, come dimostrano le intercettazioni di Palamara, come dimostrano 20 anni di lotta Berlusconi, come dimostra Tangentopoli, la sinistra ha un unico modo per accedere al potere, per via giudiziaria, quindi io non credo che ci sia un sentimento anti-Lombardo, tantomeno una persecuzione di Fontana, Fontana se non fosse, non dico rientrato in politica, ma praticamente è una re in tre quella di Fontana, perché lui si avviava diciamo così a una pensione politica, poi la rinuncia di Maroni il giorno prima delle elezioni rimise in gioco Fontana, se non fosse accaduto tutto questo Fontana poteva scudare i soldi della sua famiglia, il padre non era un medico, mi risulta che fosse uno degli avvocati più facoltosi della provincia di Varese e questo quindi, quindi io non credo un sentimento anti-Lombardo, anzi la Lombardia è invidiata e concupita. Ma, tra l'altro insomma, anche la figura di Attilio Fontana ha un po' ricompattato anche la Lega, nel senso che non è Fontana esattamente un'espressione salviniana, è un politico diciamo di lungo corso che da sempre dentro la Lega e tra l'altro molto molto stimato anche da Silvio Berlusconi che oggi interviene in maniera decisa anche nella vicenda difendendo l'operato di Fontana. Non so se voleva aggiungere qualcosa Fassina sulla vicenda. Volevo ricordare che Fontana come presidente della regione Lombardia dovrebbe essere valutato sul terreno politico rispetto a quella che è stata la gestione del Covid di cui questa parte ovviamente è una parte importante ma è una parte quindi ritengo che oltre a vicende che tutto il centro-sinistra dal Partito Democratico Leo Movimento 5 Stelle dovrebbe presentare insieme una mozione di sfiducia nei confronti di Fontana? Ma credo che sia legittimo Perché stiamo leggendo di internamenti da parte del Partito Democratico e della Liva Credo sia legittimo che ci sia questa iniziativa quantomeno serve a fare chiarimento anche perché i punti interrogativi come veniva ricordato sono tanti perché la donazione è arrivata in corso d'opera dopo che vi è stato da parte di report diciamo una notizia rispetto a quello che avveniva quindi starei attento a ritenere tutto così banale e rimane questo grande punto interrogativo che ricordavo all'inizio dei 5,3 milioni di euro scudati quindi da questo punto di vista gli elementi per cercare chiarimenti in consiglio regionale sono tanti non c'è nessuna persecuzione lombarda ci mancherebbe altro credo che lo stesso comportamento si avrebbe avuto in qualunque altra regione d'Italia mi colpisce anche qua l'ipergarantismo di Salvini quando si tratta dei suoi è una grande disinvoltura invece quando si tratta dei suoi avversali politici ma ripeto per quanto mi riguarda nessuna strumentalizzazione a me interessa che la Lombardia abbia un presidente un'aggiunta all'altezza dei problemi che ha di fronte e che sono ancora tanti purtroppo Corsetto fa bene Salvini a parlare lo sta facendo durante i comizi della campagna elettorale che ci sia bisogno in Italia di una riforma della giustizia è anche abbastanza banale di questa giustizia alla Palamara Palamara adesso è diventato praticamente l'emblema di tutto quello che è mala giustizia io penso che è meglio parlare dei problemi di giustizia quando la giustizia da spettacolo colpisce gli avversari non quando colpisce i tuoi voglio parlarne tutti i giorni non soltanto quando viene toccato nel libro io sono convinto che esista un problema della giustizia dell'uso politico della giustizia ma che riguarda tutti i partiti italiani che riguarda un contrapeso che non esiste dal 94 tra due poteri quello giudiziario e quello legislativo esecutivo dall'altra parte questo lo penso da sempre così come penso che non dovrebbero essere pubblicate sui giornali almeno il 90% delle notizie che sono pubblicate che rientrano nella sfera privata ma poi questo riguarda tutti i giornali seconda del politico un giorno quelli di sinistra un giorno quelli di destra tutti i giorni il fatto quotidiano per cui al di là di questo c'è un problema se le opposizioni invece in Lombardia chiederanno conto a Fontana della gestione del coronavirus dei problemi che ci sono stati in Lombardia accentuati rispetto ad altre regioni lo ritengo un atto legittimo politicamente così come in Lazio in Piemonte in Sicilia o in Campania perché comunque chi rappresenta i cittadini delle istituzioni deve chiedere a chi governa conto di come ha governato perché sono stati fatti errori senza polemica ma proprio per cercare di evitarli nel futuro per cui ripeto le vicende gravi semmai di tutto questo la vicenda per me più curiosa diciamo per non usare un aggettivo diverso è quella del trust sentivo sentivo però da Senaldi parlare della famiglia purarsi benissimo che stiamo parlando di un trust che poi sistemato fiscalmente che magari non riguarda il presidente ma riguarda i familiari perché se il padre era un grandissimo uno dei migliori avvocati la madre era una dentista purtroppo non mi sconvolgerei del fatto che in decenni passati magari siamo stati nascosti guadagni da altre parti ascolteremo con interesse oggi le parole di Attilio Fontana rientra la pubblicità però parleremo insomma di altri temi di questa settimana calda per quanto riguarda le votazioni al Senato soprattutto parleremo di recovery fund parleremo di messa insomma tanti argomenti tra pochi minuti allora rieccoci in onda dicevamo insomma dedichiamo questa parte a Giuseppe Conte al governo e soprattutto alla situazione riguardo la gestione dei soldi del recovery plan e una settimana che si annuncia sicuramente estremamente interessante da questo punto di vista perché allora si deve votare lo scostamento di bilancio anzi come sta inquadrando la regia giustamente ce la fa vedere qui dal Corriere della sera domani pomeriggio Conte riferisce al Senato sulle iniziative per il Covid a Palazzo Mandama e a Montecitorio mercoledì si votano le soluzioni sulla data in cui finirà lo stato di emergenza perché questo è l'altro tema estremamente interessante con il centrodestra che è compatto contro il prolungamento dello stato di emergenza stato di emergenza che dovrebbe essere fino al 31 ottobre che scade il 31 di luglio Camera e Senato scostamento di bilancio dicevamo per 25 miliardi l'esito e incerto al Senato c'è il no di Lega e di Fratelli d'Italia il sì condizionato da parte di Fratelli d'Italia che chiede di tassazione e la bicamerale sui fondi tra l'altro proposta appunto di Forza Italia e poi c'è il 28 luglio la riunione dei capigruppo della Camera dove si dovrà decidere sulla legge elettorale che sembra cosa diciamo a margine però è centrale in questo momento visto che ci sarà anche la votazione sul referendum ne parleremo poi in maniera diffusa più tardi quando ci raggiungerà in studio Maria Elena Boschi allora partiamo da Stefano Feltri oggi i giornali devo dire che hanno tutte aperture diverse su come gestire questi soldi tutte aperture diverse su come anche a livello parlamentare dovranno essere gestiti questi soldi allora da una parte c'è la bicamerale la proposta è di Forza Italia depositata c'è una convergenza abbastanza ampia in Parlamento c'è il no da parte di Italia Viva però oggi Repubblica lancia quest'altra proposta di due commissioni monocamerali e addirittura con la presidenza Brunetta che ideali si è fatto e quale potrebbe essere il percorso più diciamo pratico più praticabile ricordando che domani c'è la prima riunione così abbiamo fatto il calendario della settimana del CIAE dovremmo anche cominciare a abituarci insomma con quest'altra sigla che è il comitato interministeriale che dovrebbe gestire diciamo in nuce dovrebbe essere una sorta di task force all'interno del governo stesso ma intanto siamo ancora diciamo al minuto zero di questo tema sono 3-4 mesi almeno da aprile che sappiamo che si sta discutendo di un pacchetto di aiuti da decine di miliardi europeo siamo arrivati a fine luglio e non abbiamo un solo piano un solo progetto su come spenderli abbiamo fatto una task force di Colau di Vittorio Colau che ha consegnato ormai più di un mese fa il suo rapporto e adesso che i soldi diciamo più o meno ci sono non sappiamo come usarli questo è il primo punto il secondo è che Giuseppe Conte per ragioni da un certo punto di vista comprensibili di dare una visione unitaria dall'altro politiche di suo obiettivo di rafforzare il proprio controllo sul governo vuole gestire la regia di questo piano da Palazzo Chinci che però ricordiamo è la struttura meno adeguata perché non ha le competenze non ha lo staff non ha la struttura mentre il Ministero del Tesoro per esempio ce l'ha quindi la bicamerale? no la bicamerale allora il Parlamento può servire una funzione di controllo ma non può servire una funzione di indirizzo cioè il governo serve apposta per elaborare delle linee di intervento serve una linea politica poi il Parlamento può monitorare controllare discutere verificare rispetto tutte le esigenze ma non può essere il Parlamento a proporre specie in una bicamerale specie diciamo con le opposizioni a dover elaborare una linea politica anche perché diciamo per semplificare un po' ma non troppo prima o poi si andrà a votare e la coalizione di governo sarà valutata soprattutto su come avrà gestito questa situazione quindi hanno la responsabilità di scegliere dove mettere questi soldi abbiamo sentito finora le cose più strane a un certo punto si parlava di nuovo addirittura del ponte sullo stretto di Messina ecco io vorrei che il governo arrivasse a dare un indirizzo politico a questa situazione che è la sfida di politica economica più importante dal dopoguerra e siamo a zero la Banca d'Italia non è stata coinvolta il Ministero del Tesoro non è stato coinvolto nessuna delle istituzioni che hanno le competenze per valutare dove questi soldi possono produrre il migliore impatto finora non ha prodotto nulla non è stata coinvolta perché la politica ha prevalso allora fatemi dare il buongiorno scusami Stefano do il buongiorno a Carlotta De Franceschi economista presidente dell'Action Institute che ci ha raggiunto mentre parlavi Stefano buongiorno De Franceschi buongiorno allora mentre parlavi Stefano Feltri vedevo uno scosso Guido Crosetto che non faceva altro che fare di no con la testa sulle tue parole perché non è d'accordo? no io sono d'accordo su tutto il ragionamento che ha fatto Stefano Feltri prima tranne sulla parte finale è il Parlamento che dà l'indirizzo la finanziaria la prova al Parlamento è il Parlamento che decide per spendere le risorse no no poi il Parlamento lo fa lo fa normalmente a maggioranza per cui uno può discutere o meno se servono una bicamerale ma il Parlamento quello che dà l'indirizzo fa l'indirizzo e il controllo poi il Governo sulla base dell'indirizzo del Parlamento sviluppa la politica di Governo questo è per richiamare compiti di tutti all'interno della Costituzione per cui un dibattito parlamentare sull'utilizzo dei fondi fatto con gli strumenti che riterranno migliori quindi può essere fatto con o senza commissione bicamerale con o senza coinvolgimento dell'opposizione a maggioranza o a colpi di maggioranza o meno ma un dibattito parlamentare che indichi la via su cui il Governo poi decide e tutti i giorni governa andrebbe fatta rispettando la Costituzione dovrebbe essere un passaggio fondamentale perché il problema principale della recovery fund sarà quello di individuare come spendere queste risorse che arriveranno il prossimo anno per cui stiamo di tempo ce n'è ancora e su cui l'Europa la cosa che si legge si scopre un giorno sarà probabilmente andrà a vedere anche le virgole su questo potremmo discutere tutta la vita allora credo che sia d'accordo anche Stefano Fassina con questa idea sul fatto che il Parlamento deve essere centrale il Parlamento deve essere centrale ma con quale strumento? ecco appunto non vuol dire che c'è bisogno di una bicamerale o di una monocamerale speciale il Parlamento valuta ogni anno il documento di programmazione economica e finanziaria il Parlamento valuta ogni anno il piano nazionale di riforme cominceremo oggi pomeriggio in commissione bilancia quindi francamente non vedo il senso di una commissione ad hoc ci sono le commissioni di merito per cui i singoli progetti che siano sulla politica industriale sugli investimenti sull'ambiente su qualunque aspetto hanno una commissione di merito che può valutarli quindi non vedo il senso di fare una commissione ad hoc altro è il discorso politico se attraverso la commissione ad hoc magari presieduta da un esponente di Forza Italia si voglia diciamo associare si voglia associare alla maggioranza una parte dell'opposizione no guarda io ritengo che l'opposizione vada coinvolta ma nelle modalità previste istituzionalmente per cui ritengo che il Presidente del Consiglio prima di votare lo scostamento dovrebbe incontrare i leader di Forza Italia di Fratelli d'Italia della Lega e diciamo condividere le linee di fondo di quell'intervento perché appunto è importante che lo scostamento come è avvenuto nei due scostamenti precedenti anche per questi 25 miliardi ci sia una convergenza il più ampia possibile altro sono le responsabilità di governo il governo fa delle proposte dopodiché il Parlamento entra nel merito nelle linee di indirizzo nell'utilizzo dei fondi e le singole commissioni competenti poi valuteranno effettivamente l'utilizzo di questi fondi che ricordo attenzione c'è stato un accordo politico a Bruxelles non è che abbiamo già definito sul piano formale il recovery fund il Parlamento europeo si è messo di traverso quindi attenzione a dire stanno arrivando tutti questi soldi siamo in ritardo con i progetti ci sono delle procedure che vanno espletate il Parlamento ha approvato a stragrande Parlamento europeo a stragrande maggioranza una risoluzione fortemente critica rispetto all'accordo che c'è stato a Bruxelles noi dobbiamo ovviamente utilizzare ogni giorno per come dire definire i progetti ma il governo fa delle proposte le porta in Parlamento con le attuali commissioni perché abbiamo tutti gli strumenti per poter operare senza un'altra commissione che ripeto se ha una funzione politica allora si espliciti l'esigenza politica rispetto alla quale non sarei d'accordo ma è legittimo che si faccia la discussione non facciamo passare questa esigenza politica attraverso l'istituzione di una commissione di cui non ne sentiamo davvero il bisogno De Franceschi può sembrare una discussione di Lana Caprina di noi addetti ai lavori insomma che si occupano malati di politica però sostanzialmente bisogna presentare dei progetti all'Europa il tempo passa dovrebbe essere presentato tutto quanto entro la fine di settembre di cosa ha bisogno il nostro paese? domanda facile per rompere il ghiaccio io credo che questi fondi debbano essere utilizzati con due obiettivi uno dare una rete di protezione ai lavoratori delle imprese e l'altro dare un cambio di passo e di indirizzo al paese per quanto riguarda la rete di salvataggio mi pare che la commissione europea sia stata molto chiara ha parlato di coesione sociale e in particolare attenzione ai lavoratori tipici e liquidità soprattutto alle piccole e medie imprese perché queste sono quelle più fragili allora noi abbiamo in Italia il 20% dei nostri lavoratori il 23% sono partite IVA e durante il Covid si è molto criticato si è anche detto che queste partite IVA sono uguali a tutti io penso che bisognerebbe lavorare sul lavoro su 5 punti abbattere il cuneo fiscale focalizzarsi su fare training e ritraining anche della forza lavoro questo è molto importante perché la Germania per esempio sta convertendo parte della propria forza lavoro nel settore automobilistico prendendosi in carico questi lavoratori in cambio chiede a questi lavoratori di fare un training molto importante e nel giro di 2-3 anni cambiare lavoro il terzo punto dovrebbe essere una rete di protezione proprio per le partite IVA ed infine scusate io forse ho un conflitto di interessi un po' di attenzione per le donne perché mi pare che questo governo in molti casi si sia dimenticato delle donne e le donne in Italia hanno una situazione drammatica su tutti i punti di vista aggravata dal covid e visto che quest'anno abbiamo perso un economista italiano molto importante Alberto Lesina mi permette di utilizzare la televisione per dire magari per i prossimi tre anni diamo alle donne lavoratrici una liquota ridotta una liquota fiscale ridotta tra l'altro tema che si è anche aguito con lo smart working insomma sul ricarico sulle donne vado da Pietro Senaldi perché Pietro oggi Sabino Cassese in un'intervista messaggero sul tema relativo appunto alla bicamerale è abbastanza trascante è una pessima idea dice Cassese pessima perché il Parlamento non deve amministrare deve indirizzare e stabilire la priorità e i tempi nonché le destinazioni in maniera conforme al piano di riforme al che alla domanda allora che cosa bisognerebbe fare chi dovrebbe gestire questi soldi l'idea di Cassese è questa e riguarda De Gasperi 1950 la nascita della Cassa per il Mezzogiorno naturalmente stesa su tutto il territorio nazionale e che abbia sostanzialmente una scadenza che abbia un tempo ma che debba gestire questi soldi che come abbiamo detto prima non si vedevano da così tanto tempo cosa ne pensi? io penso per altre ragioni sono d'accordo con Cassese secondo me è una pessima idea questa della bicamerale perché per due ragioni fondamentalmente ormai gli italiani la pensano diversamente da come votarono due anni fa e quindi che un Parlamento che in realtà non rappresenta più gli orientamenti e i pensieri degli italiani che verrà vi è più delegittimato dal referendum del 20-21 settembre che taglierà un terzo dei parlamentari non mi sembra proprio l'ideale non mi sembra più il diciamo così il Parlamento costituente per antonomasia secondariamente sono d'accordo anche con Cassese per quest'altra ragione ovvero sia è inutile che facciamo finta che il governo e l'opposizione possono andare d'accordo su qualche cosa hanno due visioni di paese completamente diverse quindi se si mettono lì a cercare di aggiustare trovare un punto in comune non credo che potrà venirne fuori qualcosa di buono terzo punto e secondo me ancora più drammatico è che in realtà anche la maggioranza ha al suo interno non due ma io direi almeno tre visioni di paese completamente diverso e questo è il motivo per cui non solo non è ancora pronto il piano da presentare per l'Europa ma probabilmente non sarà in grado di farlo Stefano Feltri abbastanza trasciano giustamente dal suo punto di vista Pietro Senaldi Stefano Feltri sulle cose che ha detto la nostra economista Carlotta De Franceschi cioè questo è per l'appunto riprendendo anche quello che ha detto Senaldi il governo giusto per poterle fare e poi soprattutto questi strumenti prima che ricordiamo che stiamo parlando sempre dei soldi che arriveranno l'anno prossimo e tutto ce lo siamo detti tante di quelle volte e questa è la priorità sono queste le scadenze quelle che vanno fatte cioè in questo momento le partite IVA la rete di supporto quindi sostanzialmente gli aiuti devono essere prioritarie in questa fase o si potrebbe utilizzare anche questi soldi per fare altro per sviluppare l'impresa ad esempio io credo che il punto più giusto del ragionamento che faceva Carlotta De Franceschi è che ci vogliono delle scelte politiche noi abbiamo speso gli ultimi tre mesi a cercare di congelare l'economia in attesa di una ripartenza stiamo vedendo che la ripresa adesso non sarà a V come dicono gli economisti cioè con una rapida risalita dopo una rapida discesa ma sarà come sempre accade in Italia che dopo la discesa c'è diciamo il piattume del declino quindi se vogliamo riprenderci bisogna fare delle scelte noi in Italia abbiamo gestito l'ultima crisi quella del 2008 dando soldi ai garantiti e lasciando emarginate le frange più fragili diceva Carlotta le donne ma anche i giovani sono stati molto penalizzati non tanto alla crisi del 2008 ma dalle scelte politiche che sono state fatte dopo per esempio la riforma quota 100 che ha dato i soldi ai pensionanti per esempio il bonus degli 80 euro e la successiva espansione del governo Conte che ha dato soldi ai lavoratori dipendenti che un lavoro già ce l'hanno ecco noi adesso dobbiamo fare delle scelte politiche dobbiamo decidere se continuare a dare soldi alle persone meno esposte alla crisi e mi dispiace ma c'è qualcuno che è più esposto di altri oppure se vogliamo usare questa situazione per cercare di riportare un po' di equità ma nell'interesse di tutti perché una maggiore equità genera anche una maggiore crescita dopo la crisi del 2008 è stata l'esplosione dei part-time involontari cioè la gente lavorava meno ore di quella che poteva soprattutto questo è accaduto alle donne in questa crisi noi non possiamo permetterci di continuare a buttare soldi come ha fatto per esempio il governo Conte ancora a luglio quindi adesso quando è entrata in vigore l'estensione del bonus degli 80 euro che il Movimento 5 Stelle così come la Lega avevano promesso di abolire quindi noi nel pieno della pandemia abbiamo buttato e butteremo in maniera strutturale mi pare intorno ai 5 miliardi di euro per dare soldi ai lavoratori dipendenti che hanno ancora un posto e uno stipendio Stefano confermare quota 100 sarebbe buttare soldi a questo punto? assolutamente quota 100 è un disastro dal punto di vista dell'equità intergenerazionale cioè del rapporto tra giovani e vecchi ma è un disastro anche per i conti pubblici le promesse le giustificazioni che erano state date cioè mandiamo in pensione i lavoratori per fare entrare i giovani si sono rivelate quelle che tutti sapevano essere cioè delle balle raccontate agli elettori per giustificare un provvedimento clientelare nel senso che si volevano i voti dei baby boomer vicini alla pensione e non si è padato a spese per comprarseli mentre il soldi avrebbero potuto rilanciare il paese Crosetto su quota 100 su quota 100 e poi sulla gestione dei recordi fund guarda condivido quasi tutte le riflessioni che ha fatto che ha fatto Felipe e che quello prima il professore Francesco cioè è il momento di scelta e le scelte politiche non di un Crosetto siccome c'è un problema di audio adesso cerchiamo di migliorarlo poi le do la parola vado da Fassina e proviamo a migliorare l'audio mi colpisce diciamo che si continuino a utilizzare nell'analisi le categorie degli anni 90 garantiti lavoratore dipendente garantito lavoratore indipendente non garantito c'è stato un massacro in questi anni nel mondo del lavoro dipendente inviterei a guardare le condizioni di quei lavoratori dipendenti ad esempio nel settore dei servizi esternalizzati nella pubblica amministrazione dopodiché è evidente che c'è bisogno di interventi specifici sulle partite IVA sottolineo che dal decreto cura Italia sono state sostenuti ma il problema delle finte partite IVA non era stato risolto? ma guardi questi problemi si risolvono quelle sono modificate poi nel tempo ci sono state degli interventi importanti dopodiché diciamo questi problemi si risolvono attraverso la crescita attraverso è un sistema che ha bisogno meno di spremere il lavoro per competere ed è chiaro che le false partite IVA sono un modo per spremere e sfruttare il lavoro abbassare i costi di produzione e diciamo sostenere quella competizione di costo che non riesci invece ad avere attraverso l'innovazione attraverso gli investimenti ma sottolineo appunto che ci sono stati diversi miliardi di euro utilizzati per le partite IVA appunto da Curitagli in poi ritengo che sia stato sbagliato settimana scorsa quando abbiamo fatto l'incontro con l'associazione dei commercialisti ho anche chiesto scusa a nome del governo per quanto riguarda le scadenze delle proroghe fiscali perché ritengo che in questa fase sia invece necessario prorogare le scadenze fiscali almeno per quella parte di partite IVA di micro imprese che sono in settori a enorme sofferenza il governo ha promesso che nel DL agosto si metterà le mani sulle cartelle sattoriali e sulle sospensioni sì vedremo appunto a mio avviso è necessario sarebbe stato utile a ridosso della scadenza del 20 luglio dare un messaggio come dire di prospettiva e di come dire di riduzione di questa angoscia che vive un pezzo largo di mondo del lavoro appunto delle partite IVA allora si avrebbe dovuto indicare la possibilità della proroga abbiamo approvato alla Camera un ordine del giorno presentato dal collega Gusmaroli nel quale si propone di eliminare le sanzioni per chi fa i versamenti in ritardo ecco credo che questo vada fatto perché abbiamo bisogno appunto di riconoscere la sofferenza che investe larga parte di quel mondo e dobbiamo farlo rapidamente quindi spero che il 29 votiamo lo scostamento che non si aspetti metà agosto ma che il decreto arrivi più presto perché c'è un paese che ha bisogno di un sostegno di vedere allentata questa angoscia per il futuro noi sono settimane e mesi che parliamo di Recovery Fund che come lei ricordava arriverà nel migliore dei casi a fine 2021 ma noi abbiamo bisogno di rispondere domani abbiamo bisogno di interventi domani mattina per fare in modo che ci siano meno macerie sociali che ci possa essere l'avvio di una ripresa immediatamente che la banca centrale intervenga come stanno facendo le altre banche centrali del mondo lasciando stare tutti i discorsi assurdi sul MES e quant'altro ci concentriamo invece su quello che serve per un'emergenza Crosetto credo che adesso sia migliorato l'audio prego sì guardi parto dall'ultimo discorso di Stefano Fassina lasciamo un attimo la parte se vogliamo l'utilizzo di fondi che arriveranno a fine 2021 negli anni successivi c'è un problema drammatico di quello che è successo negli ultimi mesi e che secondo me darà i suoi effetti da settembre in poi perché centinaia di migliaia di aziende e quindi tutti i loro dipendenti perché quando parlo di aziende non parlo solo della partita IVA che magari è proprietario quindi tutti quelli che lavorano in quelle aziende perché anche nelle micro aziende lavorano una, due, tre, quattro cinque, quindici venti persone e abbiamo decine di migliaia di queste aziende che sono sull'orlo della decisione apro o non apro vado avanti o non vado avanti riesco a sopravvivere e non sopravvivere e di fronte al lavoro quotidiano con tutte le difficoltà che c'è stata con la riapertura il governo ha pensato bene di proseguire tutte le scadenze burocratiche non solo fiscali e fiscali comunque come se quasi nulla fosse successo e l'esempio che ci dava prima Stefano Pazzina dei commercialisti e dello spostamento del non spostamento del 20 di luglio delle scadenze fiscali ne è un esempio allora io sono preoccupatissimo di questa parte e della tenuta sociale e capisco che non va di moda dirlo perché metto in contraposizione se fa una ragione di dire che garantiti e non garantiti è un discorso vecchio ma è un discorso che adesso si sviluppa ogni giorno sul pianerottolo delle case perché da una parte del pianerottolo c'è una persona che magari è in cassa integrazione e alla fine la cassa integrazione che dovrebbe essere 925 per quasi tutte le persone è 750 700 euro di persone che prima guadagnavano 1200 1300 1400 1500 cioè magari al 50% del loro reddito però è una vita tarata su quel reddito e di fronte c'è qualcuno che è smart working ma al 27 percepisce regolarmente il proprio stipendio totalmente invariato e la qualità di quello smart working vogliamo dircela non esiste perché noi parliamo di smart working come se avessimo costruito prima del coronavirus gli strumenti perché lo Stato e le amministrazioni pubbliche si muovessero con lo smart working mentre invece con lo smart working quasi nessuno è pronto a muoversi io cito sempre un esempio la persona a casa come fa a consultare l'archivio perché noi se avessimo tutti gli archivi informatizzati potremmo farlo da casa ma non li abbiamo cosa succede quando uno al ministero va a prendersi il foglio come fa a contattare un'altra amministrazione se non abbiamo gli archivi informatizzati che si parlano chiamava il collega che faceva la stessa cosa e gli inviava il foglio via mail o via fax adesso il collega non risponde perché nell'ufficio non c'è nessuno per cui a fianco di un paese già in difficoltà abbiamo formalmente costruito uno smart working che però al di là della buona volontà che può esserci la parte dei dipendenti non ha un output cioè è mancata manca la produzione non vanno avanti cose aggiungo a questo grosetto che ho letto l'altro giorno un dato che secondo me sono saltato dalla sedia praticamente quando l'ho letto e poi andiamo in pubblicità che il 30% dei computer dati in durazione alla pubblica amministrazione non sono neanche stati accesi e questa cosa insomma mi ha lasciato abbastanza perplesso e questo è sicuramente un tema quello dello smart working e delle infrastrutture insomma digitali del nostro paese pochi minuti di pubblicità e poi parliamo di mess il recovery fund è figlio di tanti fattori sicuramente il fatto che l'Italia ha saputo negoziare con grande volontà di creare un piano ambizioso e per questo come ho detto prima ringraziamo il Presidente del Consiglio il Ministro dell'Unione Europea e il Corpo Diplomatico ma c'è anche un'altra cosa è figlia anche di una svolta della Germania che viene dal fatto che le nostre imprese che hanno creato la seconda forza manifatturiera d'Europa che è l'Italia hanno dato alle aziende di tutta Europa tantissimo in termini di qualità e competenze per cui se l'Italia da questa pandemia ha una crisi economica ne risentono tanti altri prodotti tante altre fabbriche tanti altri sistemi industriali europei questo è successo e quando noi dicevamo l'Europa cambierà è per questo perché un'economia interconnessa in cui l'Italia non lo deve alla politica lo deve ai suoi imprenditori lo deve ai suoi lavoratori è diventata negli ultimi anni fondamentale per tutta l'Europa in questo c'è spazio per invertire la rotta tant'è vero che siamo passati da un'Unione Europea che nel 2008 2007-2008 la crisi dei suprime americani decide di andare su le cosiddette misure di austerity ad un'Europa che solo all'Italia dà 200 e passa miliardi di euro poi dovremo essere in grado di spenderli e soprattutto dovremo fare in modo da fare progetti per il futuro dei nostri figli e non per le beghe di cortile o le misure da bassa cucina queste le parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio intervenuto ieri nell'iniziativa promossa dall'associazione Russo l'Olimpiadi delle Idee riparto da Carlotta De Franceschi allora tutto giusto cioè è andata così le parole di Di Maio sull'idea che la Germania sostanzialmente ha cambiato idea nei confronti dell'Italia e poi la cosa che le volevo chiedere De Franceschi è se l'Italia ha necessità deve attivare quanto prima il MES allora io penso che la Germania si è domandata se volessimo continuare col progetto europeo non tanto se volessimo tenere l'Italia nel senso che chiaramente l'Italia forse era il problema più grande però diciamo c'è stata una una spaccatura tra Nord e Sud Europa da quando si è creata l'Europa stessa questo divario è aumentato durante la crisi del 2008 e davanti a questa crisi è stato ovvio che i bilanci dei paesi del Sud Europa non fossero sufficienti a salvarli quindi o il Nord Europa interveniva a salvare il Sud Europa oppure l'Europa si sarebbe spaccata quindi non credo che sia stato il discorso del tipo l'Italia è assolutamente necessaria la Germania esattamente per quanto riguarda il MES allora io sono di quelli che lo prenderebbe sicuramente credo che in Italia si sono stati fatti grandi tagli alla sanità anche grandi tagli al capitale umano al personale sanitario quindi un limite che abbiamo avuto un grave problema che abbiamo avuto durante questa crisi è stata la carenza di medici la carenza di infermieri la carenza di certi determinati medici che sono in particolare i rianimatori e gli anestesisti che hanno un'unica carriera che è quella pubblica perché chiaramente l'animatore non può andare a fare rianimatore nella clinica privata e noi abbiamo una serie di problemi sono state tagliate le borse di studio per la specializzazione mi pare nel 2015 o 2016 le abbiamo rimesse però rendetevi conto noi avevamo dei medici che si laureavano e a un certo punto a fronte di 9.000 medici che si laureavano in medicina c'erano solo 3.000 borse per la specializzazione quindi gli altri 6.000 o emigravano oppure aspettavano di entrare il prossimo anno un anno ancora un anno ancora dopo chiaramente già medicina è una carriera che dura 10 anni e a questo punto il medico si faceva i suoi conti in tasca secondo abbiamo delle carriere molto incerte perché appunto anche adesso con la crisi sono stati presi i medici con contratti ad un anno e terzo e non ultimo sono pagati veramente troppo poco medici infermieri in Italia sono pagati troppo poco almeno nel modo che potrebbero servire anche agli stipendi di medici e personale un secondo perché c'era Stefano Fassina che non era esattamente d'accordo poi vado a Stefano Fertri no sui problemi che la professoressa evidenziava sono d'accordo ricordo che le risorse per il MES sono per spese di investimento per spese una tantum quindi diciamo per quanto riguarda le assunzioni che ritengo non per spese correnti assolutamente necessarie prego scusi il capitale è fungibile se lei prende 30 milioni per fare investimenti 30 miliardi per fare investimenti poi dal budget della sanità corrente può pagare i medici sì peccato che quei 30 miliardi come sa sono una tantum una volta che lei assume 100 mila medici in più medici infermieri personali che ritengo vada fatto quindi parto dalla sua stessa analisi una volta che gli assunti quelli li deve pagare per sempre non è che quando finisce il MES lei può continuare a pagarli con le risorse sostitutive che ha liberato grazie al MES su questa storia del MES e lo dico con grande rispetto per i punti di vista diversi dal mio si sta facendo un'operazione propagandistica che non va bene ma perché poi alla fine la realtà prevale siamo di fronte a una emergenza questo l'ha detto al Ministro Speranza che invece favoreva l'attivazione del MES che è del suo stesso partito abbiamo dello stesso gruppo parlamentare abbiamo punti di vista diversi ritengo che non si sia approfondito abbastanza perché si è insistito sull'assenza di condizioni iniziali per l'accesso al MES non si è riconosciuto che i comunicati dell'Eurogruppo i comunicati del Consiglio Europeo non cambiano le norme internazionali non cambiano lo statuto del MES non cambiano gli articoli dei trattati europei e dei regolamenti europei una volta che tu sei dentro il MES è una banca come tutte le banche valuta la solvibilità del debitore noi una volta che siamo dentro con un debito sopra il 170% del PIL perché ahimè questo è quello che raggiungeremo a fine anno saremo un debitore a rischio e quella banca che ti ha prestato i soldi per statuto non perché sono cattivi ma per statuto valuta la solvibilità del debitore riconoscerà che tu sei un debitore a rischio perché se hai il 170% del PIL di debito sei un debitore a rischio e ti chiederà un programma di aggiustamento macroeconomico e strutturale ma ripeto non perché sono cattivi perché i comunicati stampa degli organismi europei non cambiano le norme se fanno Feltri visto così è un cavallo di troia sostanzialmente finisco subito noi abbiamo bisogno subito che la banca centrale europea che sta intervenendo ma con una portata che è un decimo di quella della Federal Reserve della Bank of England della Bank of Japan intervenga maggiormente perché siamo di fronte a una caduta del PIL straordinaria e non si può affrontare con strumenti ordinari Feltri Stefano Fassini è una persona intelligente ma come molti altri euroscettici è rimasto prigioniero di una narrazione che è così contraddetta dalla realtà che non ha più ragione di essere ripetuta cioè il timore di Fassina e di Bagnai e di tanti altri è sì ci danno la carota del mess ma la carota nasconde il bastone perché prima ti danno i soldi e poi ti costringono non si sa bene per quali ragioni a ristrutturare il debito che vuol dire la banca rotta alle misure di austerità eccetera allora se questi timori comunque diciamo completamente infondati potevano essere legittimi fino a qualche mese fa perché chissà cosa succede nel nuovo scenario sono completamente assurdi nel momento in cui in parallelo l'Unione Europea ci dà il recovery fund il recovery fund avrà tempi di erogazione di gestazione più lunghi di quelli del mess il che significa che con una mano l'Unione Europea ci dà i soldi per la ripresa ci finanzia gli investimenti e facendo questo rende il nostro debito più sostenibile perché il fatto che arrivino investimenti che essendo anche spendendoli male anche facendo le buche per poi riempirle comunque rendono il nostro PIL potenzialmente più alto e quindi il debito più sostenibile la stessa l'Unione Europea che con una mano ci dà quei soldi con l'altra per ragioni imperscutabili decisisi da qualche consorteria oscura di tedeschi cattivi e complottisti vuole portarci alla bancarotta non ha chiaramente nessun senso oltre a essere poco diciamo probabile che succeda anche se ci fosse questo disegno non si capisce quale dovrebbe essere il grigliezzo di questa operazione dal punto di vista politico secondo te Conte prenderà ancora tempo e arriverà fino a ottobre per dire tanto l'anno è finito abbiamo il recovery plan oppure necessità come dicevamo prima dovrà per forza di cose ieri c'è stato questo botta risposta tra Matteo Renzi e Buffagni sulle gufate cioè Matteo Renzi dice che sarà necessario bisogna farlo e Buffagni che accusa di gufaggine chiamiamola così Renzi io penso che Conte stia aspettando che un altro paese probabilmente la Spagna faccia richiesta del MES per non avere diciamo il marchio del primo paese che lo chiede perché come diceva Carlotta De Franceschi i soldi sono uguali sia che gli dia hanno lo stesso valore sia che gli dia il MES sia che gli dia il mercato che piace a Fassina con il debito sostenuto dalla BCE è vero che non si può usare il MES per dare gli aumenti di stipendio ai medici o fare assolzioni ma se si tolgono 30 miliardi dagli investimenti programmati sulla sanità e quei 30 miliardi si mettono sugli stipendi e le assolzioni poi gli investimenti sulla sanità si fanno con i soldi del MES quindi la Fiscalità Generale sostiene le spese strutturali come gli stipendi e il MES sostiene gli investimenti i soldi passano da una mano all'altra si può fare quasi tutto in questo momento se i soldi del MES fanno gli investimenti usi una tantum e dire che usandogli una tantum per degli investimenti puoi sbloccare della spesa corrente per dei decenni è una cosa che non sta né in cielo né in terra e mi stupisco che persone serie continuino a dire Stefano Passina ha detto prima che le due cose non stanno assieme potrebbero stare assieme un anno o due ma poi la spesa sarebbe aumentata cosa che uno può decidere di fare ma non diciamo che non la aumentiamo perché usiamo i soldi del MES i soldi del MES sono dati per investimento in sanità faccio un esempio adesso banalizzo faccio 60 ospedali nuovissimi da 500 milioni di euro l'uno e butto via tutti gli ospedali vecchi ecco i soldi del MES per banalizzare possono essere usati in questo modo non per aumentare lo stipendio ai medici né per aumentare il numero dei medici o delle borse di studio per fare quello scelta politicamente legittima che io sottoscriverei domani mattina invece serve una scelta legittima e politica forte che va all'interno del bilancio e decide come aumentare questa cosa all'interno del bilancio italiano da vederne la sostenibilità nei decenni perché si fa così perché altrimenti racconto la stessa non è che da una parte critico quota 100 per l'incidenza che ha nei prossimi decenni e dall'altra parte faccio un discorso che sarebbe simile facendo finta di non accorgermi quindi sono due cose completamente diverse la scelta del MES è una scelta politica le contraddizioni interne Stefano Massina ne rappresenta una le ha la stessa maggioranza il tema però rilevante che voi ponete ritorno a quello detto prima è che servono soldi di liquidità ora vivono già tre mesi fa servono ora Stefano dice li prendiamo nel mercato aumentiamo chiediamo alla BCE di sostenerci di più qualcun altro dice io voglio il MES ponete tutti però lo stesso problema e Conte svicola perché nel momento in cui tu non dai una risposta positiva negativa al MES e non trovi quindi l'alternativa alla domanda che comunque mette d'accordo tutti cioè che è quella che serve una liquidità immediata da buttare nel sistema adesso beh in questo momento fai dei danni quindi aspettare ottobre aspettare che la Spagna decida prima la Spagna significa comunque dare due tre mesi in più di sofferenza far sì che muoiano in due o tre mesi in più imprese che alcune persone soffrono di più per una speculazione politica per la non volontà di una scelta politica precisa la politica non è facile non può essere consenso diffuso al cento per cento è fatta di scelte e in momenti drammatici di scelte drammatiche è difficile stare al governo non significa occupare un pozzo significa decidere che linea seguire poi è anche una scelta politica quella di non scegliere perché se no salta il banco insomma non decidere è una scelta politica è una scelta politica allora rapidamente Senaldi perché sono in chiusura ho 30 secondi per te ma recupereremo sicuramente ti voglio fare però una domanda come prosegue la raccolta film per Berlusconi senatore a vita no questa sta andando molto bene adesso presto la concluderemo fammi dire una cosa sta perdendo il tempo delle imprese sta perdendo il tempo delle imprese sta perdendo il nostro tempo ma tutti questi soldi recovery fund mess eccetera eccetera servono a prolungare la finzione che l'Italia non sia un paese fallito perché noi siamo tecnicamente falliti come praticamente ha detto il ministro Gualtieri alla fine della settimana scorsa allora su un'uscita infelice che ha smentito per fortuna è anche lì sulla tempistica ne abbiamo parlato anche a Omnibus nel fine settimana allora io ringrazio Pietro Senaldi ringrazio Stefano Feltri Guido Cosetto Carotta De Franceschi Stefano Fassina e tra pochi minuti ci raggiungerà qui in studio Maria Elena Boschi tra poco Siamo rientrati in diretta ci ha raggiunto il capogruppo il presidente del gruppo d'Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi buongiorno buongiorno allora partiamo da dove siamo abbiamo finito il nostro dibattito ovvero dalla situazione economica che ovviamente nella sua urgenza necessita di risposte allora dal punto di vista politico parlamentare oggi i giornali appunto sono piene di versioni c'è chi spinge verso la bicamerale c'è chi invece come Repubblica oggi parla di due commissioni monocamerali addirittura con la presidenza Brunetta ieri in un'intervista Matteo Renzi sulla bicamerale è stata abbastanza tranciana non se ne parla secondo noi non è necessario istituire nuove commissioni possiamo lavorare in Parlamento con le commissioni che già esistono noi abbiamo bisogno di far crescere i posti di lavoro non le poltrone delle presidenze in Parlamento del resto lo stesso professor Cassese in un articolo oggi è sulla stessa linea sull'inutilità di moltiplicare le commissioni come Italia Viva invece abbiamo chiesto sia alla Camera che al Senato la scorsa settimana di dedicare una sessione di lavoro ad agosto in Parlamento su come spendere i soldi che arriveranno dall'Europa da recovery fund quello sì però non è necessario secondo noi né istituire nuove task force né nuove commissioni perché il Parlamento è già in grado di dare degli indirizzi precisi al governo su come spendere i soldi quindi bastano le commissioni basta il lavoro che va fatto cioè l'idea di nuove task force o comunque di altri organismi sono superflui non se ne può fare a meno non è fondamentale per noi l'importante è dare risposte concrete alle aziende che devono sapere se devono pagare le tasse o meno a settembre per noi ovviamente dovremo rinviare le tasse perché il vero problema di liquidità oggi ce le hanno le piccole imprese ce le hanno le partite IVA non è stato possibile rinviare la scadenza adesso a luglio abbiamo chiesto come Italia Viva di rinviare quella di novembre almeno sugli acconti per le partite IVA lo abbiamo chiesto anche al Presidente Conte quando è stato in aula in Parlamento la scorsa settimana dovremo tra pochi giorni votare un nuovo scostamento di bilancio quindi indebitare ulteriormente i nostri figli cerchiamo di farlo per avere le risorse per creare occupazione per la ripartenza per la crescita per aiutare le nostre aziende questa è la nostra priorità da questo punto di vista prosegue il puntello anche nei confronti del Presidente del Consiglio sul MES è necessario va acceso secondo noi sì ho assistito prima anche al dibattito che c'è stato qui da voi sul MES come Italia Viva siamo sempre stati molto chiari e molto coerenti non abbiamo mai cambiato posizione noi sul MES secondo noi è giusto attivarlo perché serve a dare delle risorse in più per la sanità con delle condizioni meno gravose del recovery fund che invece stiamo appunto elogiando in questi giorni sostanzialmente costerebbe meno agli italiani accedere a quei soldi parlo ovviamente del costo per poi restituirli piuttosto che chiedere al mercato di finanziarci o accedere ad altri strumenti perché non è che quando noi mettiamo titoli o chiediamo magari ai nostri concittadini di acquistare i nostri titoli poi non dobbiamo restituire quei soldi anzi allora farla a condizioni più vantaggiose secondo noi è utile e lo dicono tutte le persone di buon senso compreso i candidati alla presidenza delle regioni che andranno al voto nonché i presidenti in carica anche Zaia che è della Lega sa che il MES è necessario a parte qualcuno del Movimento 5 Stelle tutti sanno che è una posizione ideologica quella contro il MES che però va contro gli interessi dei nostri cittadini in definitiva della nostra sanità allora la posizione non è cambiata sul MES è cambiata sulla legge elettorale perché da questo punto di vista insomma si andava a dritti insomma su questo Germanicum bisognava vedere che insomma quelle che potevano essere le soglie e a un certo punto c'è stato questo dietro fronte che ha un po' sostanzialmente sorpreso la maggioranza domani ci sarà una nuova riunione da parte dei gravi gruppo che succede? noi non abbiamo cambiato idea nemmeno sulla legge elettorale nel senso che siamo sempre stati per il maggioritario cioè per una legge elettorale che ti consenta di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e farlo decidere i cittadini si ricorderà bene che su questo abbiamo giocato anche una partita politica importante il presidente Renzi si è dimesso dopo il referendum costituzionale noi avevamo creduto e crediamo ancora che serva dare maggiore stabilità ai nostri governi e serve una legge maggioritaria per questo le dico sinceramente come Italia Viva qualsiasi legge proporzionale a prescindere dalla soglia è sicuramente più conveniente per noi rispetto al maggioritario ma il maggioritario è più conveniente per il paese per la stabilità dei governi per poter fare le cose dopodiché noi abbiamo detto sediamoci se vogliamo discutere della legge elettorale però senza l'ultimatum di dire va fatto per forza entro la fine di luglio come chiede il PD o come chiedono altri partiti per noi non è la priorità del paese in questo momento possiamo discutere la legge elettorale volentieri ma prima di parlare dei seggi in Parlamento parliamo dei posti di lavoro per noi la priorità è cosa succede alle aziende aiutare le aziende in crisi aiutare le partite IVA e aiutare tante persone che oggi si laureano e chiedono che lavoro avranno allunga anche la vita della registratura il fatto di non avere una legge elettorale ma noi una legge elettorale ce l'abbiamo una legge elettorale c'è che è il Rosatellum bisogna metterci le mani inevitabilmente sicuramente ci saranno dei correttivi dopo il referendum che taglia il numero dei parlamentari però è vero che a differenza per esempio dell'altra legislatura in cui noi ci siamo trovati per ben due volte sostanzialmente quasi senza legge elettorale perché la Corte Costituzionale è intervenuta contro Porcellum cosiddetto poi dopo contro Italicum dopo il risultato del referendum costituzionale oggi non siamo in quella situazione andremo a votare nel 2023 quindi il Parlamento ha davanti a sé tre anni per rimettere mano alla legge elettorale lo faremo siamo disponibili purché non ci siano ultimatum ricatti e purché secondo noi si dia una giusta scala di priorità a quelle che sono le emergenze oggi nel Paese io credo che sia più giusto preoccuparsi ripeto delle aziende che chiudono di Ilva di che cosa succede all'acciaieria di Piombino o all'acciaieria a Terni della strategia per Alitalia perché abbiamo messo 3 miliardi di soldi dei cittadini italiani su Alitalia e vogliamo capire come verranno spesi pensiamo che per noi sia fondamentale capire qual è la strategia per riaprire le scuole noi lo diciamo da tempi non sospetti da quando ci prendevano per pazzi come Italia Viva abbiamo sempre detto che dobbiamo riaprire le scuole perché il Paese muore se non riapre le scuole e non è un problema solo di garantire alle famiglie la possibilità di andare al lavoro sapendo che i figli sono a scuola seguiti no è un problema proprio per i ragazzi e le ragazze di avere la possibilità di imparare di avere una formazione che fatta da casa a distanza non è la stessa cosa che farla in classe con gli insegnanti con i compagni di scuola ovviamente vale anche per l'università parliamo di scuola ma vale lo stesso per l'università per noi senta ma è vero che vuole fare il Ministro della Pubblica Istruzione? no io voglio fare il capogruppo di Italia Viva come sto facendo il capogruppo di Italia Viva sì ma sono tutti chiacchiericci politici che non hanno nessun fondamento anche perché non c'è nessun rimpasto alle porte io non chiedo niente assolutamente voglio continuare a fare quello che sto facendo il capogruppo di Italia Viva ciascuno di noi col proprio ruolo cerca in questo momento di grande difficoltà di dare una mano con grande senso di responsabilità ed è quello che cerco di fare tutti i giorni da questo punto di vista viene supportato da Italia Viva noi abbiamo supportato il lavoro della Ministra Azzolina però abbiamo chiesto alla Ministra Azzolina e lo faremo anche domani perché la Ministra sarà in Parlamento ovviamente uno scatto in avanti perché per noi è fondamentale che le scuole siano riaperte con la Ministra Azzolina peraltro noi abbiamo avuto diciamo qualche elemento di divergenza sulle risorse per la scuola pubblica sia quella statale che quella privata siamo contenti che adesso il governo abbia annunciato un ulteriore intervento per la scuola pubblica da un miliardo e mezzo quindi nuove risorse per la scuola è fondamentale che ci siano gli insegnanti il primo giorno di scuola sia quelli di sostegno sia diciamo per la docenza in classe perché non si può assistere dopo tutti i mesi in cui le scuole sono state chiuse ad un caos a inizio anno è fondamentale garantire i trasporti per poter andare a scuola e soprattutto avere delle scuole in grado di essere adeguate le nuove norme noi avevamo detto approfittiamo della chiusura delle scuole per il covid per fare interventi di edilizia scolastica mettiamo soldi grazie a un nostro emendamento di Italia Viva la nostra proposta si sono sbloccate le risorse per l'edilizia scolastica noi avremmo preferito che venisse restituita l'unità di missione come c'è stata col governo Renzi creata allora perché ha portato a spendere molto più velocemente i soldi a mettere in sicurezza le scuole cerchiamo di farlo adesso in questo periodo che abbiamo davanti a noi prima che riaprono su questo ci deve essere la vera sfida per la scuola e per l'istruzione è fondamentale per il futuro del nostro paese su questo chiediamo uno scatto in avanti all'amministrazzolina senta ieri lei è intervenuta nel dibattito che riguarda diciamo così per semplificazione giornalistica il caso Casalino ovvero il compagno del portavoce del presidente del consiglio che ha utilizzato una carta di credito ricaricabile per fare del trading del trading online l'accusa da parte del giornale la verità è che venendo a conoscenza di una serie di informazioni diciamo sensibili da questo punto di vista avrebbe sostanzialmente aiutato a fare questo tipo di operazioni poi c'è stata praticamente la rivelazione dei problemi che riguardano appunto il compagno di Rocco Casalino si è parlato sostanzialmente di essere vittima insomma di queste associazioni di trading leggo la sua dichiarazione per intero per anni 5 stelle ci hanno attaccato per ciò che hanno fatto o non hanno fatto i nostri affetti più cari oggi che Rocco Casalino è nella stessa situazione per i suoi affetti noi siamo diversi molto diversi da loro noi siamo garantisti noi siamo seri noi siamo Italia viva allora di là dello slogan diciamo da partito finale questa è una netta diciamo distinzione che c'è tra voi e il Movimento 5 Stelle nel quale insomma siete nello stesso governo insieme avete due idee di giustizia molto diverse infatti non è uno slogan con l'Italia viva ma è proprio una è il DNA è il modo in cui siamo siamo garantisti e lo siamo sempre a differenza del Movimento 5 Stelle che è garantista quando riguarda qualcuno del Movimento 5 Stelle o qualche affetto del Movimento 5 Stelle mentre è giustizialista quando le vicende giudiziarie toccano altre forze politiche del resto Rocco Casalino negli anni scorsi ha guidato la comunicazione per il Movimento 5 Stelle e dietro tante campagne mediatiche sui social molto aggressive verbalmente del Movimento 5 Stelle nei confronti di tanti esponenti me compresa del Partito Democratico di altri e le famiglie sicuramente c'è una regia una strategia che è stata fatta anche da Rocco Casalino negli anni scorsi noi oggi potremo ripagarlo con la stessa moneta visto che riguarda il suo compagno una vicenda diciamo poco chiara che poi non sta a me giudicare ovviamente e noi non lo facciamo perché noi siamo garantisti anche nei loro confronti e rispettiamo anche la privacy di Rocco Casalino e del suo compagno in questo abbiamo marcato una netta differenza lo possiamo dire rispetto al Movimento 5 Stelle lo possiamo dire anche rispetto alla Lega alle vicende che stanno riguardando la Lega e Lombardia in questi giorni perché che in Lombardia non tutto abbia funzionato mi pare sia evidente lo dicono i dati oggettivi se sia responsabilità di Fontana o meno lo diranno i magistrati gli avvocati che seguiranno le vicende giudiziarie non io lei non è in Regione Lombardia ma in Televiva non abbiamo una mozione di sfiducia nei confronti di Fontana noi valuteremo ovviamente leggendo le carte vedendo quello che succederà nei prossimi giorni e qual è il quadro di sicuro noi non facciamo però campagne mediatiche in cui le sentenze si iscrivono in un talk show come stiamo facendo adesso noi in un dibattito pubblico o in un salotto cerchiamo di essere garantisti con tutti ripeto anche con gli avversari politici anche quando si tratta dei 49 milioni della Lega o quando si tratta di altre cose poi lì vabbè ci sono diciamo dei giudici che hanno già accertato le responsabilità sui 49 milioni infatti le stanno restituendo non è stato lo stesso quando le vicende hanno riguardato il Partito Democratico Italia Viva o altre forze politiche ecco per quanto riguarda il clima avvelenato lei parlava insomma del clima avvelenato che c'è stato in questo paese io lo farei vedere una fotografia che lei si immaginerà magari la fotografia che sta campeggiando insomma che abbiamo visto in questi giornali perché l'era la legge di farla vedere però invece è un'altra fotografia ed è la foto del 26 maggio 2014 è la vittoria come possiamo vedere insomma tutto quel Partito Democratico lì è la vittoria all'europea il 40,8% insomma all'epoca c'era Presidente del Consiglio Matteo Renzi ma come vediamo dalla foto lei è tra Guerini e Speranza due esponenti dell'attuale governo che fanno parte di due partiti diversi poi si vede anche un gualtiere insomma in piedi in alto insomma tanti esponenti di quella famiglia del Partito Democratico io a quella foto vorrei far vedere appunto la foto di cui stavo dicendo dicendo prima che è la famosa foto della barca che è questa altri esponenti che facevano parte di quel Partito Democratico adesso sono dentro Italia Viva sono oltre a lei Gennaro Migliore e Luciano Nobili allora questa foto qui si è scatenato un putiferio pubblicata poi tra l'altro da un componente che faceva parte insomma di quel gruppo di persone che l'ha pubblicata sui social e poi l'ha subito ritirata nel senso che poi si è creato un meccanismo quasi di di hating come dicono quelli che si occupano di social da questo punto di vista e io intanto la valutazione è su questo ma poi soprattutto com'è possibile che un movimento dal 40,8% da quel consenso lì nel giro di sei anni sia arrivato poi sostanzialmente a dilapidare tutto quel patrimonio io credo anche in parte per il clima che si è creato nel corso degli anni lei faceva riferimento al momento 5 stelle ne ha parlato anche ha parlato anche della Lega com'è cambiato poi il paese da questo punto di vista la foto del 41% delle europee ha un grande assente nella foto che però era stato anche il grande artefici di quella vittoria del 41% che era Matteo Renzi perché Renzi voleva proprio dare l'idea che fosse una vittoria di una squadra una squadra che c'era e devo dire che il 41% ci ha consentito di governare per tre anni aumentando un milione di posti di lavoro prevedendo l'industria 4.0 una stagione dei diritti civili della legge sul dopo di noi contro spreco alimentare quindi è stata una stagione di grandi riforme riforme importanti per il paese che è successo basata su un grande consenso che secondo me però mi consente di dirlo visto che avete associato le due foto non ha niente a che vedere con la foto di una giornata una foto in costume di una giornata al mare di sabato peraltro l'unica cosa che secondo me diciamo è rilevante nella foto è che c'è anche un parlamentare un europarlamentare del partito democratico con noi nella foto al mare perché? perché si possono dividere i destini politici ma le amicizie poi restano anche diciamo tra persone di partiti politici diversi con i quali abbiamo condiviso un percorso quindi voglio dire rimane la cosa non dico tutto il paese ma non c'è però non vedo diciamo la connessione rispetto alla possibilità che una persona va da un giorno al mare non so se ci vuole un'autorizzazione parlamentare nel senso penso che insomma uno possa il sabato prendersi del tempo per andare su un'isola ci vuole una barca ha stupito anche a me questa reazione ma non io credo che ci sia però anche un po' un clima che si è generato e che forse alcuni hanno anche fomentato in questi anni incentivato per cui sostanzialmente si guarda non alla sostanza io vorrei parlare delle nostre proposte sul decreto legge semplificazioni sulle proposte che abbiamo fatto e che sono state approvate nel decreto legge rilancio a quello che immaginiamo per i prossimi vent'anni del paese quello che dico in Parlamento quando intervengo al pari di tanti altri colleghi in aula su tanti temi e sinceramente di che cosa possa fare in una giornata del mio tempo libero al pari di chiunque altro non dovrebbe essere un argomento diciamo che ha una valutazione politica e che viene un po' incentivato in questo modo ma questo clima d'odio in parte l'ho detto anche lei prima è stato in qualche modo alimentato anche dal partito con cui siete il governo voi in questo momento io le dico che nonostante tutto nonostante anche le difficoltà personali perché per noi soprattutto un anno fa è stato molto difficile per tanti di noi votare la fiducia a quel governo come momento 5 stelle dopo appunto gli attacchi ingiusti le falsità che abbiamo subito negli anni precedenti eppure oggi le dico dopo aver visto il recovery fund che ci sono 200 miliardi di buone ragioni per aver fatto quel governo perché se arriveranno risorse in più per i cittadini italiani con il lavoro che abbiamo fatto in Europa questo ci ripaga anche delle difficoltà che ci possono essere state in questi mesi e io credo che oggi anche chi ha attaccato la scelta nostra di Renzi un anno fa di far nascere questo governo capisce la grande operazione che c'è stata dietro perché abbiamo riportato credibilità all'Italia l'Italia al centro dell'Europa se fossimo andati al voto un anno fa e avessero vinto i sovranisti avesse vinto Salvini come era molto probabile un anno fa oggi ci sarebbe un'Europa diversa oggi l'Italia non avrebbe le risorse che potrà spendere per il recovery fund per tutto questo credo che anche avere un qualche elemento di sacrificio personale diciamo così nel lavorare con persone che torneranno dopo l'esperienza di questo governo ad essere avversari politici alle prossime elezioni ne vale la pena l'interesse del paese e non è un caso se noi come Italia Viva per esempio alle regionali non sosterremo in Liguria il candidato del Movimento 5 Stelle se il PD vuole assecondare un po' il populismo del Movimento 5 Stelle scegliendo un giornalista del Fatto Quotidiano come candidato alla presenza della Regione Liguria noi siamo altrove non rinunciamo alle nostre idee in una battuta bisogna ricostruire diciamo una formazione politica in questo momento con altri movimenti diciamo più vicini alla vostra area penso a Calenda penso a più Europa le dico ma con la più grande serenità e sincerità che per noi in questo momento la cosa fondamentale è ricostruire la fiducia degli italiani nel nostro paese perché soltanto portando di nuovo gli italiani ad avere fiducia dopo l'esperienza drammatica che tutti noi abbiamo condiviso del Covid potremo tornare a crescere noi non vogliamo vivere di assistenzialismo di misure diciamo appunto di sussidio ma vogliamo creare posti di lavoro vogliamo dare la possibilità ai ristoranti di ripartire al turismo di non essere in ginocchio questa è la nostra priorità il resto fa parte diciamo dei retroscena politici ma che non ci impegnano nelle nostre giornate noi siamo al lavoro per gli italiani ringrazio Mariana Boschi allora e con Mariana Boschi finisce questo dibattito la puntata di Omnibus di oggi l'appuntamento è a domani vi ricordo sempre alle 8 adesso la linea va Andrea Pancani e a Coffee Break buona giornata a tutti